Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo già anticipato nel video precedente, oggi andremo a provare due bellissime palettine che ho comprato sempre sul sito di Pink Panda. Per chi si fosse perso l'ultimo video che ho pubblicato, ve lo lascio in descrizione, mi raccomando andate a guardarlo perché ci saranno grandi colpi di scena. Spero che ce ne saranno tanti anche oggi di colpi di scena, spero di aver comprato due palette bellissime, all'apparenza lo sono. Come in manigginerete, anche oggi si tratterà di un video makeup, faremo un bel trucco occhi insieme con queste due nuove palette che sono la Forever Flawless Birds of Paradise di Revolution. Ragazzi, ha uno schema colori pazzesco, veramente pazzesco. Ci sono questi due brillantosi che mi fanno impazzire, ma in generale tutti i colori sono pazzeschi. Sono veramente super estivi, non vedevo l'ora di farvela vedere. Appena l'ho vista mi sono innamorata, quindi oggi come alla fine vi ho già anticipato, andremo a fare un trucco molto pazzo. Vi faccio vedere anche la seconda palette di Nabla, questa molto famosa. Si chiama Miami Lights Glitter Palette, quindi è una palette di glitter. Questi, ragazzi, sono i glitter che ci sono all'interno della palette, io direi uno più bello dell'altro. Ne ho già swatchati qualcuno, ma li vado a riswatchare solo per voi. Sono veramente magnifici, con la luce hanno un effetto pazzesco. Facciamo qualche swatch anche di questa palettina. Diciamo che oggi io vorrei utilizzare i viola, i rosa, i verdi, ma andiamo a provare questo glitter blu, il glitter viola, anche questo arancione che mi fa impazzire. Ecco lo swatch di questi tre. Il resto, ragazzi, lo proveremo insieme perché voglio usare un sacco di colori. Sono carichissima. Questo video è anche fatto in parte perché, andando verso l'estate, sicuramente tutti noi vorremmo comprare delle palette un po' più estive che ci facciano sperimentare con i colori. Quindi ho detto, quale miglior occasione se non provarne una più qualche glitter che fa sempre molte estate e magari consigliarvele o meno. Speriamo che vada tutto bene. Mi raccomando, mi raccomando. Ma prima di iniziare il makeup, vi chiedo di iscrivervi tutti quanti al canale, mi raccomando, e commentate e mettete like se il video vi è piaciuto. Vi vedo, vi vedo tutti. Detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere. Passiamo al makeup. Come potete vedere, ho già fatto la base, ovviamente, perché oggi ci focalizzeremo soltanto su queste due palette che vi ho appena fatto vedere. E quindi siamo pronte. La base è pronta per essere riempita con dei colori pazzissimi. Mi sa che inizierò con questo bianco e lo metterò sull'arcata sopraccigliare. Così andiamo a vedere se questo bianco è pigmentato o meno. Non è esageratamente pigmentato, poi è chiaro che può essere stratificato. Direi che lo possiamo mettere su tutta la palpebra, così diamo una base unificata. Allora, fa un po' di fallout questo bianco e diciamo che rispetto anche al beggiolino della palette che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, mi piace un po' meno perché non è coprente al 100% e appunto facendo molto fallout diciamo che non è il top andarci più e più volte sopra. Però dai, niente male come base, ci sta. Adesso iniziamo a sbizzarrirci con il colore, con un pennellino da sfumatura. Andrei a prendere per primo Vake A, che è il fucsia qua in alto. Lo usiamo come colore di transizione, soltanto nella palpebra fissa. Molto bello e molto molto pigmentato. Vediamo un po' com'è la sfumabilità. Direi ottima comunque. Mi piace molto, è un colore molto molto vivace, molto molto acceso, quasi flash diciamo. Molto bello, mi sento già un uccello del paradiso per rifarci al nome della palette. Adesso cosa andiamo a fare? Io direi che possiamo prendere Tail Fever, spero che si pronunci così, questo violino un po' più scuro e lo andiamo a mettere un pelo sotto al colore che abbiamo appena utilizzato. Cosa dite? Io noto la differenza. Si amalgamano bene, sì, ma non perdono la loro unicità, tra virgolette. Il loro colore. Sono molto contenta. Adesso è il momento di iniziare con dei bei Viola Strong. Direi che però per il momento vado a prendere soltanto Adventure, che è questo qua. E lo vado a mettere proprio qua, per dare un po' di dimensione. Vediamo un po'. Se è bello pigmentato. Oh yes ragazzi, oh yes. Ma che bello. Che bellezza. Voglio usare un sacco di colori oggi, vi avviso già. Non mi limiterò a questi rosa-viola. Lo metto un po' nella crease, ovviamente, per dare dimensione al trucco. I colori, come vedete, si sfumano perfettamente. Molto, molto figo. Che dire. A questo punto riprendo un filino, filino, filino di fucsia iniziale e lo vado a riprendere un po' per dare una sfumatura un po' più alta. A questo colore qua, io ci vorrei abbinare, visto che sulla palette il viola e quest'altro colore sono uno di fianco all'altro. Ci voglio affiancare questo bellissimo giallo canarino, che infatti si chiama Canary. Voglio metterlo qua all'interno per dare questo stacco pazzo, bellissimo. Allora, prima proviamo da solo, perché lo voglio bello potente. Se non è abbastanza pigmentato, andiamo di spray. Non mi sembra pigmentato come lo è il viola, però comunque, ragazzi, si vede parecchio bene e il suo effetto, diciamo, che lo fa è molto bene anche, direi. I really like it. Adesso vado un po' a unire i due colori con semplicemente il pennello sporco. Non voglio andare ad aggiungere ulteriore prodotto. Mi piace molto, ragazzi, questa palette. Non so che commenti fare se non mi piace molto. Io ve l'ho già detto, io quando parliamo di colori pazzi, sono sempre allerta. Direi che questi due colori insieme sono veramente pazzeschi. Cioè, questo trucco per un evento estivo, in cui magari avete un outfit un po' più sobrio e riuscite a giocare più con i colori sugli occhi, direi che è perfetto, perfettissimo. Adesso, ragazzi, dobbiamo andare a fare la rima inferiore. Io oggi voglio proprio creare pazzie, scusatemi, speriamo di non rovinare tutto. Vorrei andare con questi due verdi qua. Così, insomma, proviamo un po' tutto. Non ci facciamo mancare niente oggi. Prendiamo un pennellino piccolo e vado con il verde più scuro e lo metto proprio attaccatissimo alla waterline. Bisogna usare, ragazzi. Bisogna usare. L'unica cosa che posso dirvi come critica, tra virgolette, di questa palette è che gli ombretti sono veramente molto, molto polverosi. Quindi, se andate a usarli, mi raccomando, tan tan tan, dovete scrollare il pennello perché se no è un po' la fine. Adesso vado a prendere un pennellino a caso per sfumare un po' e vado a prendere il verde più chiaro, poco, e vado a sfumare un po' qua sotto. Mi porto anche un po' più sopra verso il viola e sfumo, sfumo, sfumo. Così da non lasciare una linea netta e schiarirla un pelino. Mi sembra di aver usato pochi ombretti, ragazzi. Ne vorrei usare altre. Ah, io quando vedo questi colori pazzi proprio non ce la faccio. Per evitare pasticci vari possiamo fermarci qui. Ma questo trucco è un po' troppo matte. Cosa dite? Non vi pare? Per questo adesso andremo a sfoderare la nostra palettina di glitter. Eccola qui. A me fanno impazzire questi qua bianchi. Io vi devo dire la verità. E non mi dispiacerebbe metterne un po' qui sopra al giallo e un po' di fianco al verde. Prima di tutto vado a bagnare il mio pennello con il setting spray e vado a prendere il mio bianco. Vediamo un po'. Mmm, molto sottile. Molto raffinato. Cioè, oddio, questo trucco di raffinato non è che ha troppo. Ma, oh, 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 oh. Guardate che perline grosse ci sono all'interno di questo ombretto. È pieno di perle enormi. In realtà potrebbe essere anche utilizzato come illuminante. Magari dopo proviamo a metterle un po' di più. Ormai qua stiamo facendo pazzie. Dobbiamo continuare. Ne metto un po' anche qua sotto. Vediamo cosa salta fuori. Che effetto è, ragazzi? Meraviglioso. Il giallo, come vedete, sotto rimane. Ma dà quel quid in più che proprio il trucco lo trasforma. Lo rende proprio vivo. Bellissimo! Bellissimo! Direi che abbiamo abbondato a sufficienza. Adesso, come promesso, andremo a provare questi glitter come illuminanti per vedere se possono fungere anche da quello. Io direi che provo prima con il dito. Non voglio, ovviamente, essendo un illuminante esagerare... Ma guardate qua! Provo da questa parte con il dito e dall'altra parte con il pennello. Vediamo che differenza può fare. Fantastico, ragazzi. Fantastico! Vado col mio solito pennello da illuminante, lo bagno un pochetto e prendo sempre il mio glitter. Non so come sia meglio, eh. Vi dico la verità. Alla fine entrambi i metodi hanno un bel effetto. Questi brillanti mi fanno... Mi fanno volare. Eccoci qua con il makeup terminato. Ho semplicemente messo un po' di mascara e l'effetto è strepitoso, ragazzi. Questi ombretti mi hanno fatti impazzire. Vi faccio intanto vedere il makeup look ravvicinato. Che dire, ragazzi? Io sono sbalordita. Questi glitter mi hanno fatti impazzire. Non vedo l'ora di provare anche tutte le altre tre colorazioni. Presi con un pennello semplice, asciutto. Non penso che funzionino più di tanto perché è un prodotto non come l'ombretto, bello compatto. Eh sì, compatto, però dal momento che lo tocchi col pennello si sgretola in tanti glitter che quindi vanno messi sull'occhio o con una colla da glitter o con, come ho fatto io ad esempio, una semplice spruzzata di setting spray. Pensavo anche che rimanessero molto di più sul pennello i glitter dal momento che venivano prelevati e poi messi sull'occhio perché comunque il setting spray tende a tenere tutto dentro il liquidino, no? E invece si sono stesi alla perfezione, cioè praticamente nel pennello non è rimasto niente. Quindi i glitter super mega provati. Non vedo l'ora di utilizzare anche quelli pigmentati. Mi piace tantissimo. Per quanto riguarda invece gli ombretti di Revolution, di questa bellissima palette tropicale, molto accesi veramente, il colore sulla cialda è veramente fedele a quello che poi traspare nell'occhio dal momento che viene applicato. Ha una resa favolosa nel senso che lo stendi e già alla prima stesura tu vedi bene il colore. Il colore è bello vibrante, bello pigmentato, come deve essere poi una palette su questi toni molto accesi. Farò tanti altri makeup per provare altri colori, per esempio l'arancione che vi ho sbocciato all'inizio del video mi fa impazzire e anche i glitter che ci sono all'interno. Che come grana appunto assomigliano molto a quegli altri che ho provato oggi di Nabla. Che dire ragazzi, io sono veramente innamorata di questo makeup, non me lo toglierei più, mi piace tantissimo. Farò un sacco di makeup estivi così quest'estate, ho proprio deciso, ho deciso che quest'estate bisogna usare e fare trucchi pazzi, un po' così da pappagallo multicolor. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti a vedere il mio trucco pazzo che abbiamo fatto insieme oggi. Io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando. Vi mando mille bacini e ciao!